Buongiorno a tutti, Louis Vuitton Cup, prima regata, prima vittoria per Luna Rossa che distacca di ben 46 secondi Ineos Britannia. La partenza è stata fondamentale, si è raggiunta a una velocità altissima, addirittura si è arrivati fino ai 50 nodi di velocità. Luna Rossa ha fatto la gara perfetta, Ineos ha provato in tutti i modi a raggiungerla, si è partita con 11 secondi di vantaggio al primo gate, 11 al secondo, poi si è passato 25, 35, 40 e siamo andati fino alla fine con una grandissima prestazione, una grandissima vittoria, soprattutto Ineos che era considerato una barca veloce e è stata battuta proprio sull'arma su cui proprio basava la sua forza. Che dire, c'è da aspettarsi oggi anche della seconda regata è una bella battaglia. La partenza è stata eccezionale, 1 a 0 per Luna Rossa e speriamo che si prosegua su questa strada qui. Vi ringrazio sempre per seguirmi, vi invito a cliccare in basso destra, iscrizione gratuita e potete dire liberamente la vostra sullo sport. Ciao!